Sono molto fiero di aprire questa sezione perché le sezioni sono punti d'incontro e la politica si fa dal vivo. Purtroppo quello che abbiamo visto è che sempre meno persone fanno politica dal vivo, fanno politica in ogni senso. Noi abbiamo fatto un congresso approfondito, l'abbiamo fatto complicato perché crediamo che questa la forma partito sia la forma giusta e la forma partito ha anche le sue sedi. E questa è la sede dei milanesi, io spero che prima o poi ce ne siano altri, di tutti i lombardi, spero che qui vi riuniate come a casa vostra per parlare, discutere, litigare eppure prende qualche voto quando vi capita perché sennò è durissimo. Grazie mille, i telefonini possono andare dall'altro. Allora scusate, noi abbiamo inaugurato 60 papri, credo. Voi andate là e io faccio questa. Dobbiamo andare più indietro. Però voi due mettete le mannine. Non va, si fa così. Buonissimo, finito.